Due rinvenimenti casuali di droga da parte dei carabinieri. Una prima segnalazione è da via Oliviero Forzetta, Ponzano Veneto. Mentre stava sistemando il suo terreno, un 42enne di origini kossovare ha notato della vegetazione sospetta. Tra la sterpaglia sono state rinvenute dai militari dell'arma ben sei piante di marijuana alte circa un metro e mezzo. La coltivazione è ora sotto sequestro, ma il proprietario resta ignoto. A quinto di Treviso, invece, nella giornata di ieri è arrivata una chiamata da parte dei vicini per segnalare un litigio particolarmente animato tra una coppia di fidanzati. I carabinieri, una volta sul posto, hanno scoperto all'interno di una stanza dell'abitazione dell'uomo circa 125 grammi di marijuana e una quantità minima di eroina. Sequestro immediato con il 48enne che è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.